Enelgrid Enelgrid è una società italiana che vende energia e gas, circa 3 terawatt di energia elettrica e 100 milioni di standard metri cubi di gas. Abbiamo tre sedi, una a Torino, una a Milano e una terza a Roma. Il nostro obiettivo è quello di rendere il cliente protagonista del mercato, chiaramente dell'acquisizione del vettore energetico, ma anche protagonista di quelle che sono le soluzioni di efficienza energetica. Sono tanti gli interventi che si possono fare per risparmiare energia all'interno di un condominio. Parliamo di insufflaggio, parliamo di isolamento del tetto, costruzione di un nuovo impianto fotovoltaico, sostituzione delle vecchie lampadine con nuove lampadine LED, Sostituzione di quella che è la centrale termica, cambiare una caldaia obsoleta e mettere nuove caldaie a condensazione. Oppure gli interventi di contabilizzazione, ovvero l'installazione delle valvole termostatiche. Questi interventi spesso sono anche molto onerosi, se parliamo di grandi condomini. Allora a quel punto la gente dice, io preferisco procrastinare la soluzione. Ahimè ad oggi questo non è più possibile. Un recente decreto legislativo che è il 102 del luglio 2014, ha previsto proprio come scadenza ultima il 31 dicembre di quest'anno per provvedere la contabilizzazione del calore. Ecco allora che Energrid che cosa offre direttamente? La possibilità a tutti gli amministratori che vorranno sottoscrivere con Energrid un contratto di rendimento energetico, quello che oggi viene definito tecnicamente IPC contract, cioè Energy Performance Contract, la possibilità di realizzare gli interventi dilazionando nel pagamento nel tempo. A questo punto la soluzione che propone Energrid deve essere affiancata alla fornitura del vettore energetico, quindi di energia o gas per tutta la durata del periodo di dilazione. Questo rende possibile all'amministratore finalmente realizzare i propri sogni e per il condomino ottenere davvero un risultato in termini di risparmio energetico. Qual è allora la chiave? Realizzare davvero l'intervento di efficienza energetica a costo zero.